Ciao, io sono Luca di ApproachAll.it e in questo video vedremo se un uomo che non ha i social è penalizzato con le donne? Per iniziare, per chi non mi conoscesse, sono il fondatore di ApproachAll.it, un'azienda nel settore del miglioramento sentimentale che dal 2018 ha fatto ottenere a centinaia di uomini risultati come l'andare a letto con nuove ragazze o entrare in una relazione di coppia. Tutto questo viene fatto tramite videocorsi, consuenze e corsi a vivo che sono a pagamento. Quindi per chi pensava di cambiare la propria vita gratis, consiglio di abbandonare questo video. Quindi vediamo se effettivamente il non avere i social, che siano Facebook o Instagram, perché di base sono quelli i social principali, soprattutto Instagram si utilizza per ragazze, Facebook non si usa più, ovviamente c'è anche Facebook, alcune ragazze magari lo usano più Facebook che Instagram, non è più utilizzato. A livello di quando si scambia il contatto social, quindi io mi ricordo quando ho iniziato io ad approcciare, che parliamo del 2015, quando ci si scambia il contatto social con una ragazza, che fra l'altro è una cosa che in realtà non dico che non è sbagliata al 100% scambiarsi il contatto social, però di solito 90% dei casi quando una ragazza ti lascia il contatto social, dopo che ci hai fatto un'interazione che sia dal vivo di 10 minuti, di 15 minuti, dopo che ci hai fatto magari una conversazione su Tinder, ti lascia alla fine il contatto social, 90% dei casi te lo sta lasciando perché hai fatto male l'interazione, altrimenti ti dà il numero così, però sono altri discorsi, però mi ricordo quando le ragazze ti davano il contatto social, perché appunto molte volte era andata male, mi ricordo che era Facebook il contatto social, ad oggi non è più così, ad oggi non mi ricordo in che anno c'è stata la transizione, penso che fosse stato forse intorno al 2017, non mi ricordo però, a pensarci quando erano inizi, mi ricordo quando le ragazze mi davano il contatto social, perché magari l'interazione era andata male, era Facebook, non era Instagram, quindi in realtà parliamo più che altro di Instagram in questo video, quindi non avere Instagram è una cosa che ti penalizza, con le donne, per tanti uomini, non so, dicono lei ma io non sono uno social, io non voglio avere Instagram, quindi c'è effettivamente chi ha questo dubbio lecito, quindi fondamentalmente il concetto che voglio trasmettere in questo video è molto semplice, nel breve termine, no, non ti penalizza, ti penalizza al massimo nell'ottica del 5%, quindi magari ti perdi da volte qualcosina, ma niente di che, nel lungo termine sì, è una cosa che ti penalizza enormemente, e cosa vuol dire nel lungo termine, quindi facciamo prima la parentesi riguardo la questione del breve termine, in che modo può servire per esempio avere Instagram, quindi ti può essere utile sia per quando conosci ragazzi al vivo, sia per quando le conosci online, quindi per esempio, saluto se hai un profilo che è veramente molto 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 potente, per chi per esempio ha il videocorso dell'approccio che mi ha detto, è anche seduzione online, in entrambi i due videocorsi c'è un bonus di due ore, esattamente sull'argomento Instagram, la persona che ho intervistato in quel bonus, che è un esperto di Instagram, e lui in grado di, siccome è un profilo che ha fatto molto molto bene, lui anche se fa un approccio in strada che dura un minuto, tante volte poi gli converte in appuntamento, perché lui lascia volutamente il contatto Instagram alla ragazza, ha un profilo Instagram che è fatto così bene, che gli porta comunque, porta comunque la cosa all'appuntamento, è una cosa che la porta da di molte e poche persone, però in quel bonus è spiegato effettivamente come si crea un profilo Instagram che è fatto bene, io non mi ripeto di avere un profilo Instagram che è fatto come c'era lui, però è un profilo Instagram che comunque è curato ed è fatto appositamente per un pubblico femminile, in che modo può essere utile, in che modo mi è utile fondamentalmente, quando magari prendo un contatto, magari da un approccio al vivo, e magari per rinforzare il contatto, magari è un contatto che sì, è abbastanza solido, però delle volte aggiungerci anche il contatto Instagram, se quindi scambiarsi anche il contatto Instagram, dopo però ovviamente vi dovete sentire su WhatsApp, non su Instagram, perché su Instagram ne ha altri 100 milioni che le scrivono, però nel momento in cui ti scambi anche il contatto Instagram, oltre a WhatsApp, su Instagram la ragazza ha la possibilità di vedere le tue foto passate, quindi là come è andato ad entrare in gioco è un altro argomento, quindi bisogna chiaramente avere un profilo Instagram fatto bene, non un profilo Instagram fatto a caso, perché quello ti danneggia e basta, un profilo Instagram fatto male, quindi la ragazza ha la possibilità di vedere le tue foto che sono passate, e lì entra in gioco, il che diciamo è tra virgolette una trappola per la ragazza, il tuo contatto Instagram, tante volte da dei puntetti passati, magari io ho anche delle foto di me con ragazze disseminate, quella sul mio profilo Instagram, è una cosa che va a creare più attrazione alla ragazza tramite il concetto della preselezione, quando una ragazza capisce che sei già stato validato tra virgolette da altre ragazze, è una cosa che crea più attrazione a lei, cioè tutta la ditrologia, la spiegazione, che tanto è assolutamente inutile fare adesso, prendi il concetto, ci sono tante cose nel mondo del miglioramento sentimentale, c'è la spiegazione, però devi semplicemente capire che è così, come per esempio l'attrazione, l'attrazione si crea tramite caratteristiche comportamentali, come sequenza interiore, essere dilatente, intelligenza sociale, fine, bisogna capire che ci sono altre caratteristiche, però è questo il concetto, però c'è tutto il pippotto teorico dell'attrazione, valore, sopravvivenza, quando gli uomini vivono nelle caverne, le dinamiche fra l'attrazione sono rimaste uguali nei millenni, non ci serve sapere tutta sta roba, ok, serve sapere semplicemente che l'attrazione si crea in quei modi, quindi invito a non farsi i pippotti mentali su tutte le volte del perché una cosa è così, come per esempio la frase d'approccio, che io tante volte ho detto nei video, la frase d'approccio in italiano, stiamo già divagando però, la frase d'approccio in italiano va allungata un po' di più, funziona meglio allungandola un po' di più, rispetto a quando approcci magari in lingua inglese, la frase d'approccio va bene fatta anche un po' più corta, perché questa cosa? Non lo so, non ho la minima idea, ok, semplicemente ho notato con la mia esperienza che una frase d'approccio fatta più lunga, quando approcci in italiano, funziona meglio rispetto a farla più corta, perché? Non lo so, ma non ci interessa, bisogna semplicemente capire che è così, comunque tornando al discorso della preselezione, avendo qualche foto sparpagliata quella di me con ragazze, è una cosa che può creare più attrazione, io una ragazza, quando la ragazza magari, tante volte magari, le ragazze durante un appuntamento mi chiedono di vedere anche il profilo di Instagram, io non vedo l'ora, perché è preparato apposta per essere visto da una ragazza, ok, quindi mi ricordo, c'erano tante foto, le ho tolte di me con ragazze dal mio profilo di Instagram, poi tanto ne puoi vedere un bel po' sul mio sito www.approccio.it, però avevo notato che avendo tante troppe foto di me con ragazze sul profilo di Instagram, è una cosa che poi danneggiava anche, cioè ok, che creava attrazione, però poi quando diventava troppa, portava la ragazza poi a farti obiezioni, a non fidarsi, perché ti vedri, che una volta addirittura avevo anche, nelle storie in evidenza su Instagram, avevo tutte le volte che andavo con una ragazza magari in un appuntamento, delle volte non sempre, facevo magari un video di 10 secondi dove facevo vedere che ero in una certa location e magari si intravedeva un pochino che ero con una ragazza, magari si vedeva due cocktail sul tavolo, non lo so, e ce ne erano tantissime perché le mettevano anche nelle storie in evidenza e quindi magari se portavo una ragazza all'appuntamento, la portavo in quella location, poi magari ci scambiavamo il contatto Instagram, lei andava a guardare le storie in evidenza, vedeva che ne avevo portate lì altre 100, questa è una cosa che chiaramente va a danneggiare, quindi l'ho imparato anche sulla mia pelle, qualche foto sparpaiata quella di teco ragazze, quindi sono cose che ti possono aiutare, però il concetto è che nel momento in cui hai un profilo di Instagram che hai fatto bene, è una cosa che ti va a migliorare le cose, non va a risanare un'interazione che fai dal vivo, che fa schifo, quello no, se hai un profilo di Instagram che hai fatto veramente in maniera perfetta e impeccabile, magari anche sì, però di base no, ok, la persona come ho detto che ho intervistato nel bonus su Instagram, che ripeto, si trova sia nel videocorso dell'approccio alla camera diretto, sia anche nel videocorso seduzione online, però nelle rispettive versioni avanzate, non nei livelli base dei due corsi, e la persona che ho intervistato in quel bonus, lui non è che faceva interazioni, ma le faceva male, ok, le faceva corte perché aveva poco tempo, poi era sempre in pausa pranzo così, le faceva al volo le interazioni e prendeva il contatto di Instagram così al volo, ma non è che le faceva l'interazione fatta male, ok, semplicemente era molto corta l'interazione, quando un'interazione è molto corta è improbabile che converta in appuntento, un'interazione di un minuto è improbabile che converta in appuntento, è possibile, però in questo caso era possibile perché poi con i profili di Instagram andava a creare un'interazione fortissima nella ragazza, poi chiaramente ci doveva anche chattare, magari anche poi a un certo punto scambiarsi il numero, per sentirsi su WhatsApp, per uscire da tutta la giungla della gente che gli scrive su Instagram, però è una cosa che non è per forza vitale, nel momento in cui sai fare un'interazione che è corretta dal vivo, non è che ti serve il contatto Instagram in più da prendere per rinforzare un po' l'interazione, io ho tante delle persone che conosco dal 2015 che avevano un sacco di risultati con le donne, non avevano i social, eppure andavano a letto decine di ragazzi al mese, però quasi, non sto parlando di me, in questo caso parlo di un paio di persone che avevo conosciuto nel 2015, che erano due persone che avevano risultati molto molto interessanti, una delle persone con cui uscivo tutti i giorni, un altro per chi ha il videocorso d'approccio a camera letto, Mr. X, c'è sempre una lezione insieme a lui, perché appunto è una lezione sul come imparare a provarci con ragazzi giovani, quando sei adulto, lui è un uomo di 42 anni, adesso quando abbiamo registrato quell'intervista ne aveva 40, e lui era stato letto con oltre 400 ragazze a due anni fa, e lui non ha mai utilizzato i social, usava semplicemente il numero di telefono, perché nel momento in cui fai un'interazione corretta dal vivo, non è che ti serve il contatto Instagram, ti può aiutare giusto un 5% in più, per quanto riguarda il lungo termine invece, è una cosa che è assolutamente vitale, cosa vuol dire lungo termine? Vuol dire quando ti devi tenere in contatto con una ragazza per un periodo di tempo che è indefinito, perché magari approcci una ragazza, magari la ragazza non vive nella tua città, magari sta temporaneamente nella tua città, sta un mese, sta un giorno, sta un anno, e poi non so, dopo parte, viaggia, magari è nella tua città soltanto per 6 mesi, perché studiava lì per 6 mesi, era lì per lavoro, è un periodo limitato, e quindi a un certo punto ci si separa, però c'è la possibilità poi magari di vedersi un giorno, quando lei torna nella tua città, quando tu magari viaggi, vai nella sua città, non lo so, questo intendo per lungo termine, quindi quando non ci si può vedere perché non si è più nella stessa città, ci si tiene in contatto, in che modo? Con i social, con Instagram, quindi Instagram ti permette di tenerti in contatto, quindi ripeto, il social è Instagram, Facebook non si utilizza più per tenersi in contatto, ovviamente le ragazze usano ancora Facebook, però ripeto, il social ormai è Instagram, quindi fondamentalmente in che modo ci si tiene in contatto? O le scrivi un altro ogni 3 giorni con Whatsapp, oppure ti devi tenere in contatto tramite Instagram, Instagram permette di tenersi in contatto indirettamente, senza doversi scrivere tutti i giorni, perché la ragazza posta qualcosa, le metti un mi piace, anche lì bisogna stare attenti a mettere un mi piace a tutte le cose che posta, però lei posta qualcosa, le metti un mi piace, tu posti qualcosa, magari lei non ti mette nessun mi piace, però comunque lo vede, oppure magari ti mette un mi piace, la ragazza ha la possibilità di guardare il tuo profilo delle volte, la ragazza quando tu posti delle storie ti può vedere, può vederti sia in faccia sia può vedere i posti dove vai, anche se poi non ti commenta le storie, magari da volte ti manda delle reazioni, delle volte le commenta le storie, delle volte le guarda e basta, che non è che è un problema se lei non ti commenta mai le storie, ripeto, ragazze che hai conosciuto dal vivo e con le quali ti citi in contatto poi per un periodo di tempo, che è più o meno lungo, di 6 mesi, 1 anno, 2 anni, quello che hai io addirittura, è una ragazza con la quale c'è uscito nel 2016, che non ci siamo mai più rivisti, perché non ci siamo mai più ritrovati nella stessa città, però molto spesso mi schieva, perché mi vede, sempre dalle storie Instagram, delle volte si è stati forse nella stessa città, però non siamo riusciti a incrociarci, ed è del 2016 questa ragazza, altre ragazze che magari mi hanno guardato semplicemente le storie, magari le ho conosciute due anni fa, anzi guarda, citiamo giusto, faccio giusto un paio di esempi, di come questa cosa poi ti torna utile, praticamente una ragazza l'avevo conosciuta, non mi ricordo, tipo forse settembre, non lo so, non lo so, forse settembre 2020, forse qualche mese prima, non lo so, non mi ricordo, però fondamentalmente ho conosciuto questa ragazza, ho fatto un appuntamento istantaneo, e anche un primo appuntamento poi la sera stessa, solo che era venuta con l'amica all'appuntamento, perché era lì, apparentemente questa ragazza era di, mi sembra Venezia forse, non lo so, comunque stava in Veneto, se non sbaglio, e quindi stava già a Milano, giusto io, ai tempi vivo a Milano, stava lì giusto qualche giorno, perché era venuta lì in vacanza, a farsi un giro, non lo so, e niente, ho fatto questo appuntamento istantaneo di pomeriggio, e l'ho il primo appuntamento la sera stessa, però si è portata dietro l'amica, quindi lì non si è fatto assolutamente nulla, e ci siamo tenuti in contatto poi con Instagram, per il, non so, per un po' di mesi, non mi ricordo quando ci siamo rivisti, però avevo fatto il conto, era tipo 6-7 mesi dopo, dopo la volta successiva che lei è tornata a Milano, subito la prima cosa ha fatto, mi ha scritto, e subito ci siamo visti, e in quel caso non c'era nessuna amica, ok, infatti poi in questo secondo appuntamento siamo andati a casa mia abbastanza facilmente, cosa che sarebbe stata impossibile se non ci fossimo tenuti in contatto, in maniera indiretta tramite Instagram, ok, e non è che ci sentivamo, cioè non ci sentivamo praticamente quasi mai, delle volte magari lei commentava qualche mia storia, delle volte magari le commentavo io qualche storia, ma di base non ci scrivamo praticamente quasi mai, è che tramite il guardarsi sempre o tre volte le storie a vicenda, oppure i post, io poi non è che posto chissà quanta roba, posto magari le storie, ok, tramite il vedersi costantemente, è un modo per tenersi in contatto indirettamente. C'è una ragazza che io avevo conosciuto nel 2019, che io penso che ancora ad oggi, tante volte la cito nei video, in maniera divertente, che dico che piango la notte pensando che sta scherzando, perché ad oggi ancora, ricordo che non credo di aver mai avuto un'esperienza letta con questa ragazza qua, che avevo conosciuto nel 2019, e però lei non ha i social, e quindi non c'è body connection, quindi lei è nell'oblio, sì già ho il suo contatto, però è su whatsapp, però non guarda le storie di whatsapp, lei non posta niente, quindi o le scrivi ogni tre giorni, e poi non si sa neanche, non si sa quando ti ci puoi rivedere, perché di base se non vivete nella stessa città, nello stesso paese, non sai, io non so quando potrei rivederla questa ragazza, una volta era ritornata a Milano, però non lo sapevo che era ritornata, perché non tenendosi in contatto con le storie, io non so dov'è, lei non sa dove sono, ok, quindi c'è questo problema qua. Ho pure un'altra ragazza, che addirittura qualche giorno fa, che l'avevo conosciuta sempre, questa era nel 2019 a Milano, e era anche lì in vacanza per tipo una settimana, era settembre 2019, e ci avevo fatto un appuntamento, se non sbaglio lì, ce l'ho riato al bacio, però poi niente di che, realtà l'avevo anche scartata, perché non aveva abbastanza esperienza ai tempi, infatti questo è un bacio, non mi è piaciuto, si vedeva che non aveva esperienza, quindi poi l'avevo scartata, non ci avevo fatto assolutamente niente, però io oltretutto non avevo anche smesso di seguirla, poi sui social, perché non mi interessava più rivederla, nonostante fosse una ragazza veramente molto molto bella, quindi anche le ragazze molto molto belle, delle volte non hanno esperienza, perché magari hanno paranoie mentali in testa, faccio sesso solo dopo il matrimonio, testerebbe qua, che le portano poi a non fare esperienza, e quindi di base l'avevo scartata per questo motivo, e qualche giorno fa, tipo una settimana fa, mi aveva riscritto, perché ci trovavamo nella stessa città, e ci siamo visti, e stavolta l'ho visto in due anni, era comunque di nuovo con non tanta esperienza, però comunque stavolta è andato tutto quanto liscio, senza nessun tipo di problema, e cosa sarebbe stata impossibile se non ci fossimo tenuti in contatto in questi due anni, in realtà io non mi sono, qualche volta mi scriveva lei, perché io di base, come ho detto, l'avevo scartata, però lei continuava sempre tutte le volte a guardare le mie storie su Instagram, io qualche volta gliele guardavo, perché comunque quando le persone ti guardano le storie, tu puoi vedere chi te la guardate, e vedi il, non so come dire, il cerchio con l'immagine del profilo, è evidenziato se la persona ha postato una storia, quindi delle volte magari le guardavo anch'io le storie, anche se non le seguivo, e in questo modo ci siamo tenuti in contatto in maniera indiretta, qualche volta sicuramente ci siamo anche sentiti, però niente di che, e però si è ricordata, due anni dopo ci siamo visti, tutto quanto, che sarebbe stato impossibile, nel momento in cui non mi fosse tenuto in contatto con lei, in maniera indiretta tramite Instagram, perciò se vuoi imparare anche tu come saperci fare con le donne, creare un profilo in Instagram che ti permette di tenerti in contatto per il lungo termine con le donne, che converta poi in un appuntento, lo puoi imparare tramite i miei vari percorsi formativi, tra di tutte quante le informazioni cliccando sul primo link in descrizione, oppure andando sul mio sito www.approcciala.it, se hai domande, dubbi, non sai quale percorso formativo faccia a casa tua, contatta uno dei miei miei esperti, tra di tutti quanti i riferimenti sempre in descrizione, sia il numero di telefono per parlare la voce, sia anche il contatto Whatsapp per parlare via messaggio. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video!